Come ti difendi quando sei vittima di un complotto? Ne parliamo ora in questo video, ne parliamo qui, sul Banco degli Imputati. Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Se sei imputato in un processo penale, potrebbe capitarti che persone a te ostili potrebbero utilizzare dei tuoi vizi privati per distruggerti. Insomma, un tuo vizio, una tua debolezza, viene utilizzata per farti saltare come persona, lavoratore, professionista, imprenditore, politico. E come lo fanno? Ovvio, portandoti sul Banco degli Imputati, facendoti processare e cercando di farti condannare. Per raccontarti questa trama, che potrebbe esserti già capitata, voglio parlarti del caso di Dominique Troscan, ex leader del Partito Socialista Francese e, all'epoca dei fatti, presidente del Fondo Internazionale Monetario, che viene arrestato, trascinato sul Banco degli Imputati per violenza sessuale. E' da qui che inizia la nostra storia. Bene, se sei interessato a come difenderti nel processo penale, allora ti propongo il mio libro Avvocato di Difesa, che trovi su Amazon. Invece, sul sito www.avvocatodidifesa.it avrai le prime 30 pagine in maniera gratuita. Inoltre, se sei un praticante avvocato, un avvocato e vuoi approfondire le tecniche di difesa nei processi da me compiuti e i miei consigli sulla professione forense, allora puoi scaricare il mio corso Penalisti si diventa. Vai sul sito www.penalistisidiventa.it. 14 maggio 2011. Dominique Strauss-Kahn viene arrestato. Ma chi è Dominique Strauss-Kahn? Dominique Strauss-Kahn non è soltanto un leader del Partito Socialista, un economista affermato, un professore universitario, e non è soltanto, scusate se poco, presidente del Fondo Internazionale Monetario, ma è anche il candidato in pectore alla corsa alla presidenza francese per competere contro il candidato della destra, già presidente francese, Nicolas Sarkozy. Improvvisamente però scoppia la bomba. Dominique Strauss-Kahn, il 14 maggio 2011, viene arrestato negli Stati Uniti d'America per aver violentato una cameriera africana, una certa di anno, nella sua stanza d'albergo. La notizia fa il giro del mondo. L'arresto viene convalidato e Dominique Strauss-Kahn rimane in cella. I difensori del politico francese riescono ad ottenere gli arresti domiciliari, in una residenza lussosa della città, ma DSK non può lasciare lo Stato di New York. Rischia una condanna pesante. Il carcere ne usa e la fine della sua carriera politica. La strategia difensiva degli avvocati di DSK è minare l'attendibilità della persona offesa e costruire una verità alternativa a quella prospettata dalla pubblica accusa. Dominique Strauss-Kahn non è simpatico ed è un soggetto chiacchierato. È notorio che sia un uomo a cui piacciono le donne. Circolano voci su di lui, pesanti, che faccia avans volgari a collaboratrici, che si accompagni ai vertici internazionali con assistenti con spacchi vistosi, scollature vertiginose, che frequenti escort e club per scambisti. Sicuramente Dominique Strauss-Kahn non è simpatico, ma un vizio privato non può essere utilizzato come arma di killeraggio politico-giudiziario. Infatti, i difensori di Dominique Strauss-Kahn denunciano il complotto politico. Sembrerebbe che il presidente francese, Nicolas Sarkozy, che nei sondaggi è dato perdente, avrebbe chiesto approfondimenti ai servizi segreti francesi sulla vita di DSK. Insomma, cercare di trovare qualcosa di utile per delegittimarlo politicamente. Tanto che Dominique Strauss-Kahn lo affronterà ad un vertice internazionale, dicendogli a muso duro, presso a poco così, so che i tuoi stanno facendo ricerche su di me, stai attento, questo gioco potrebbe sfuggirti di mano. I difensori di Dominique Strauss-Kahn cercano dei punti deboli sulla persona offesa. Infatti, viene intercettata una conversazione telefonica dove la Diallo, la cameriera, parla con un suo ex ragazzo recluso nel carcere dell'Arizona, in cui la Diallo dice non preoccuparti, quell'uomo è pieno di soldi, so quello che faccio. Parallelamente, emergono relazioni sospette tra i responsabili dell'albergo, Sofitel, in cui era alloggiato DSK, e l'entourage del presidente Sarkozy. La procuratrice americana, dopo vari interrogatori, afferma che la presunta persona offesa è inattendibile, in quanto ha dato sul fatto tre versioni diverse. Il processo non inizia nemmeno archiviato. Ma vediamo come possiamo traslare questa vicenda alla tua vicenda processuale. Come difenderti nel caso di un complotto? Devi sapere che il processo penale non è altro che una battaglia tra storie. La storia del pubblico ministero, che parla di un reato commesso dall'imputato, e la storia del difensore, che narra di un imputato che non ha commesso il reato. Ovviamente, la storia non è un tema libero. Perché? Perché i pezzi della storia saranno rappresentate dalle prove. Chi vincerà? Vincerà la storia che sarà più logica e più coerente con le prove raccolte. Nel nostro caso, per difenderti, dobbiamo cercare quindi una storia alternativa a quella della pubblica accusa. Come nel caso di Dominique Strauss-Kahn, dovremo mettere in luce i vuoti logici e narrativi della storia dell'accusa e portare prove a nostro favore, che confermino la nostra narrazione. Nel caso di Dominique Strauss-Kahn, non soltanto la signora fu ritenuta inattendibile perché raccontò tre diverse storie, ma anche perché la difesa, attraverso la sua narrazione difensiva, nel corso delle indagini, ha tracciato una verità alternativa a quella della pubblica accusa. Ovvero, non la povera cameriera venuta dai quartieri poveri che deve soggiacere ai desiderata sessuali di un uomo ricco e potente, ma una pedina manovrata per far saltare il politico candidato all'Eliseo e dato in anticipo come vincente. Ecco che per la tua difesa dovrai portare a giudizio una contronarrazione che annulli la storia colpevolista della pubblica accusa e convincere il giudice che nulla è come sempre. Bene, se ti è piaciuto questo video allora iscriviti al canale e sarai sempre aggiornato sull'uscita dei miei video. Se vuoi affidarmi il tuo caso giudiziario allora chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte.